Sesto empirico. Vi è un paradosso quando si parla di scetticismo. Lo scetticismo, fiorito in età ellenistica con Pirrone di Elide e con i suoi successori, non si presenta propriamente come una scuola. Infatti la sua stessa essenza è quella di essere una skepsis, una ricerca, da cui scetticismo, una ricerca inesauribile che porta gli scettici a non avere nulla da insegnare. Ed è per questo motivo che gli scettici non lasciano testi scritti, eccezione fatta per Timone di Fliunte, le cui satire tuttavia non ci sono giunte. Per disporre finalmente di testi scettici dobbiamo attendere fino alla fine del II secolo d.C., proprio con Sesto empirico. Sesto è detto empirico perché appartenente alla scuola medica detta degli empirici. I medici empirici erano quelli che ritenevano impossibile conoscere le cause reali di una malattia. Per loro ci si poteva soltanto attenere agli affetti osservabili, eventualmente benefici, dei farmaci somministrati. Ebbene Sesto empirico è uno scettico che compone numerose opere, un numero grande di opere in cui Sesto empirico professa il proprio scetticismo e si richiama soprattutto alla figura avvolta da leggenda di Pirrone di Elide. Pare che Sesto sia nato intorno al 180 d.C., ma ci è ignoto il suo paese d'origine. Sappiamo che albergò ad Alessandria, ad Atene e a Roma e le sue opere mediche, che comprendono anche le memorie mediche e le memorie empiriche, sono però andate perdute insieme a un trattato sull'anima. Ci sono state conservate invece opere più propriamente scettiche, come le ipotiposi o schizzi. Gli schizzi pirroniani è il titolo completo del testo in tre libri, ed è una sorta di summa della filosofia scettica. Disponiamo poi del contro i dogmatici in cinque libri e contro i matematici in sei libri. Contro i matematici è un testo indirizzato contro coloro che in generale detengono le diverse forme di sapere e pretendono di possedere dottrine definitive certe, dal greco mazzema, insegnamento. Sappiamo che Sesto muore intorno al 220 d.C. Si diceva poc'anzi delle simpatie di Sesto per la filosofia di Pirrone. Non per caso Sesto empirico definisce il proprio pensiero come pirroniano e giudica negativamente i contributi che allo scetticismo avevano portato gli accademici Carneade e Arcesilao. Infatti Carneade e Arcesilao finivano per negare l'assunto fondativo della dottrina pirroniana. L'assunto fondativo della dottrina di Pirrone è la sospensione del giudizio, in greco epoché. Ma Carneade lo aveva sostituito con il criterio del pizzanon, cioè del persuasivo, e Arcesilao aveva sostituito la epoché di Pirrone con il ragionevole eulogon. A giudizio di Sesto empirico entrambe queste forme sostitutive di Carneade e di Arcesilao tradiscono l'insegnamento dello scetticismo di Pirrone. Parlando di inconoscibilità delle cose anche Arcesilao e Carneade sono scivolati nel dogmatismo. Le cose non sono inconoscibili, che vorrebbe già dire avere una verità, bisogna semplicemente sospendere il giudizio su esse. Nei primi sei libri della sua opera Contro i matematici, Adversus Mathematicos, letteralmente contro chi insegna discipline, Sesto empirico distrugge le pretese di scientificità accampate da varie discipline, come la grammatica e la retorica, la geometria e l'aritmetica, l'astrologia e la musica. Nei restanti cinque libri dell'Adversus Mathematicos, Sesto empirico confuta le filosofie dogmatiche e lo fa seguendo la tripartizione canonica di logica, fisica ed etica, questo nella seconda parte dell'Adversus Mathematicos. Nel suo testo più celebre, intitolato Schizzi Pirroniani, articolato in tre libri, Sesto empirico permette alla confutazione un sommario di filosofia scettica, una sorta di compendio della filosofia scettica, e insiste sull'originalità assoluta della posizione degli scettici. Da un lato nessuna forma di filosofia può essere paragonata allo scetticismo e dall'altro solo lo scetticismo dispone degli strumenti per confutare le altre filosofie. Già nel primo secolo avanti Cristo, a dire il vero, Enesidemo aveva fatto rivivere una forma di scetticismo che si richiamava Pirrone, in un'opera intitolata Discorsi Pirroniani. Enesidemo aveva sostenuto che è impossibile conoscere le cause delle cose e fare inferenze attraverso segni indicativi, cioè inferire da ciò che è evidente ciò che di per sé non lo è. Dunque era un antesignano di Sesto Empirico per certi versi. E sulle orme di Enesidemo anche Agrippa aveva sviluppato in altra direzione lo scetticismo, rivitalizzando l'epochè di Pirrone. Sesto Empirico sviluppa in qualche modo una sorta di controstoria della filosofia. Per Sesto Empirico l'intera storia della filosofia è incapace di dare un criterio di verità che permetta di scegliere una filosofia anziché un'altra. In tal guisa si genera un labirinto di filosofie, a cui ciascuno dà il proprio assenso in maniera dogmatica. La critica delle filosofie dogmatiche fa affiorare la uguaglianza di forze, o letteralmente l'isosteneia, l'uguaglianza di forza, l'ugual peso delle tesi contrapposte e dunque l'impossibilità di sceglierne una se non in modo dogmatico. Solo la epochè, la sospensione di giudizio, permette di uscire dal dedalo delle credenze filosofiche, ma per giungere alla epochè bisogna esaminare le alternative della tradizione filosofica. Solo tramite questa ricognizione può scaturire l'impossibilità di scegliere una delle filosofie. In questo senso la filosofia scettica è necessariamente parassitaria rispetto alle altre filosofie. Ha bisogno delle altre filosofie per raggiungere il proprio obiettivo, cioè la sospensione del giudizio e la ataraxia, l'assenza di turbamento che ne deriva. Dopo aver raggiunto questo obiettivo può in qualche modo liberarsi di tutte le filosofie, può distruggere gli stessi argomenti di cui si è servita, come chi, dopo essere stato in alto su una scala, si libera della scala e la butta giù, un'immagine che tornerà anche peraltro nel Tractatus Logico Philosophicus di Wittgenstein. O, allo stesso modo, si può fare un ragionamento analogo a quello del purgante che, espellendo gli umori, espelle insieme anche se stesso. Solo la sospensione dell'assenso può generare quella libertà che tutte le filosofie dogmatiche intendono ritrovare nel sapiente, ma che puntualmente non trovano per via del loro stesso dogmatismo soffocante, di cui l'insistita polemica di Sesto Empirico contro lo stoicismo, che è il vero bersaglio polemico degli scettici. In una vita libera dalle opinioni, che generano solo turbamento, il criterio della condotta deve essere trovato nei fenomeni, cioè nelle cose come appaiono, senza mai pronunciarsi sulla loro verità o falsità. Allo stesso modo bisogna trovare conforto nelle leggi, negli insegnamenti delle tecniche. Il filosofo scettico, dunque, si distingue da tutte le altre figure di filosofo, che sempre legittimano la propria identità, prendendo le distanze rispetto alle regole e ai modi della vita ordinaria. Al contrario, il filosofo scettico, proprio perché sospende il giudizio, si radica poi nella vita ordinaria, alla stregua di tutti gli altri uomini. A differenza delle dottrine filosofiche, lo scetticismo non richiede giustificazioni, proprio come non richiede giustificazioni la vita dell'uomo comune. In tal guisa, lo scettico può autenticamente pervenire all'assenza di turbamenti, ataraxia, che è poi lo scopo finale della filosofia stessa. Il filosofo dogmatico, invece, è sempre teso a sostenere o a perseguire qualcosa, ma da ciò nasce solo il turbamento, mentre dalla epochè segue, come l'ombra, la ataraxia, l'assenza di turbamenti. Il filosofo scettico, dunque, risulta il terapeuta non delle passioni che attanagliano i più, bensì della malattia del dogmatismo che tormenta i filosofi. Grazie. 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 Grazie.